Questa sera è una serata d'agosto molto calda, siamo all'oratorio San Giovanni Bosco di Vigliatore e abbiamo organizzato assieme alla ciclistica Terme e qui c'è il rappresentante Angelo Valenti abbiamo organizzato assieme a loro questo torneo di burraco di beneficenza e tutto va devoluto all'oratorio questo oratorio è una grande realtà di Vigliatore grazie all'aiuto dei ragazzi che hanno realizzato questa struttura anzi hanno manutenzionato questa struttura che era ferma e anche grazie all'input di Padre Carmelo sono riusciti a realizzare un sogno questo sogno però va coltivato e quindi noi praticamente siamo qui per contribuire per Padre Carmelo e per i ragazzi che si impegnano qui abbiamo il rappresentante dell'oratorio che tutti i giorni apre, chiude, c'è da fare tutto quello che c'è da fare noi cerchiamo di unire l'utile al dilettevole, siamo degli appassionati di burraco oltre ad essere un appassionato di bicicletta sono appassionato di questo gioco e cerchiamo insieme alla Prologo di Terme e Vigliatore di organizzare questi tornei in modo da raccogliere qualcosa di fondi da dare in beneficenza, in questo caso per l'oratorio di Vigliatore Allora quello che volevo dire già è stato detto però la cosa che voglio aggiungere è che l'idea oggi di portare queste persone qua nasce proprio dal fatto che questa struttura per tanti anni diciamo che è stata chiusa e dobbiamo ringraziare come ha detto appunto mio marito e come ha detto la ciclistica a Padre Carmelo che si è rimboccato alle maniche e con una squadra di ragazzi hanno realizzato tutto questo hanno dopo tanti anni finalmente averto questa struttura ai giovani d'oggi ma non solo ai giovani pure ai grandi quindi noi ne abbiamo un pochettino diciamo approfittato di questa cosa proprio per ringraziare Padre Carmelo e per ringraziare tutti coloro che giornalmente si spendono in questo oratorio per i ragazzi abbiamo unito diciamo il gioco con l'utile perché tutto il ricavato sarà appunto donato all'oratorio per poter comprare dei giochi che possono utilizzare i ragazzi